Ogni anno c'è sempre fermento, nel senso che si pensa sempre a quello che si può abbinare, quello che si può fare qualcosa di nuovo senza andare a intaccare poi quelle che sono le caratteristiche dei piatti che devono essere abbinati al tartucco bianco d'alba. Noi quest'anno abbiamo pensato a questo risotto dedicato esclusivamente al territorio Piemonte, dove abbiamo tre formaggi particolari, Bettenmatt, Torno Piemontese e Castelmagno, dove abbiamo il Topinambu, dove abbiamo un po' di Cervere. Abbiamo cercato di raccogliere più elementi possibili del territorio e metterli insieme. Grazie